dunque eccoci qui oggi guarderemo insieme al meraviglioso mondo dei bassisti dei batteristi dei chitarristi e tutti quelli che suonano qualsivoglia strumento delle diciamo così delle tecniche per amalgamarsi bene insieme e guarderemo anche un pochettino di ritmiche leggermente diverse dal solito con meno battere e più zumba 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 un po' africaneggianti di cui sono un grande cultore e che amo diffondere perché uno non va mai ascoltare la musica africana ma la ritmica della musica africana è il top del top del top che dire d'altro andiamo quello che quella musica vuole farci arrivare è una pulsazione con un tiro pazzesco per cui c'è dietro un discorso completamente diverso grazie a tutti